L'Associazione Pubblici Esercizi del Molise punta l'attenzione sui problemi che il settore attraversa ormai da anni e chiede un confronto con le forze politiche in campo proprio per le prossime elezioni regionali. Un appello a tutte le forze politiche che scenderanno in campo in occasione delle elezioni regionali per affrontare i temi legati ai problemi che oggi scontano le attività che rientrano nella somministrazione. Bar, pub, ristoranti, pizzerie, wine bar da anni soffrono una forte crisi economica e produttiva. Per questi motivi l'APM Molise chiede un confronto preelettorale. Con la speranza e quanto afferma l'Associazione che qualsiasi forza politica sia chiamata a governare abbia una particolare attenzione nei confronti di un comparto economico produttivo in ginocchio da anni. Comparto che racchiude piccole attività spesso gestite da famiglie con l'intento di portare almeno uno stipendio a casa. Intanto preoccupanti i segnali di allarme sulle condizioni attuali del comparto. Nonostante si legge in una nota a firma dell'APM ci siamo battuti per anni cercando di far capire al susseguirsi delle varie amministrazioni comunali e regionali di quali fossero in parte le motivazioni della morte delle attività. Nessuno si è mai preoccupato di ascoltare e magari mettere in atto strategie economiche capace almeno di tamponare lo squilibrio tra domanda e offerta. Chiudono in media 122 negozi al giorno, calcoli alla mano, dal 2011 al 2016 chiudono 267.000 attività commerciali. Noi crediamo fortemente, conclude l'APM, che la nostra regione potrebbe diventare il fiore all'occhiello e l'eccellenza nazionale. A tal proposito chiediamo dunque un confronto preelettorale a tutte le forze politiche che scenderanno in campo in occasione delle elezioni regionali per portare un nostro modesto contributo affinché si trovi una soluzione ad un problema molto serio di una crisi congiunturale legato prima di tutto alla forte pressione fiscale e al grosso problema legato al costo del lavoro.